Vittoria senza troppa fatica per la New Basket, Brindisi nel match di apertura del decimo Memorial Penta-Suglia-Epicasa-Cup. La formazione biancazzurra si impone 80-68 sulla Carpegna-Prosciutto-Pesaro al termine di un match che ha visto i marchigiani in partita per i primi 20 minuti. Coach Vitucci per la palla in due sceglie Josh Perkins, Visconti-Gaspardo, Nathan Adrian e Nick Perkins. Primo quarto equilibrato con i lunghi di Brindisi che impongono i muscoli sotto canestro. 18-12 alla prima sirena, nel secondo tempino si vede più l'AVL, coach Azapedrovic trova il quintetto giusto per rientrare in partita. Frank Vitucci fa ruotare quasi tutti i suoi uomini ma a un minuto e trenta da riposo Pesaro trova il sorpasso. Basta poco al duo Ciappel-George Perkins per scrivere il nuovo vantaggio, seppure minimo, alla pausa lunga 36-33. Nella ripresa la New Basket è più reattiva, macina punti su punti, andando ancora con la doppia cifra di vantaggio e coach Vitucci che può provare i vari quintetti. Nathan Adrian sotto canestro si fa spazio ma anche dalla linea dei tre punti dimostra di avere una mano morbida. Al trentesimo è sempre dominio Epicasa, 65-46. L'ultimo tempino è tutto in discesa per i pugliesi che hanno nell'accoppiata Zanelli-Redivo ordine e punti. Per Pesaro ci prova Tambone a tenere a galla la VL, Brindisi è più ordinata e tiene a distanza la Carpegna Prosciutto con coach Petrovic costretto alla resa. Oggi di nuovo in campo i marchigiani, palla in 2,18 per la sfida con gli estoni del Tartu per la seconda giornata del torneo. Domenica, giornata conclusiva con la gara tra Epicasa Brindisi e il Tartu.